Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Gesù sia con tutti voi. Abbiamo iniziato con la canzone Immagina. Noi siamo in questa situazione in cui ci sembra, con tutta l'energia che abbiamo dentro, ci sembra che ci abbiano legato le ali. La sensazione che hai è che le tue ali sono legate e non riesci più a volare come sognavi, come volevi. E allora che si fa? O ci si dispera o si inventa qualcosa. Forse bisogna inventare qualcosa. Io credo che la cosa che possiamo fare è usare questo tempo per svegliarci. Perché il passo primo della vita, quando sei in una crisi, svegliati. E non è facile svegliarsi quando dentro ti sei addormentato da troppi anni. Poi alzati, poi guarda, ascolta, immagina. Bisogna immaginare già da ora quello che vogliamo diventare. Passata questa pandemia, vuoi continuare a campare così? Come prima? O vuoi cambiare modo? Bisogna saper scegliere in tempo, diceva una canzone di Francesco Cuccini. Non arrivarci per contrarietà. Sarebbe bello a volte scegliere in tempo e non arrivarci a forza di musate. E allora, il Vangelo oggi ci parlerà di amore. Un amore vero. E l'amore vero non ha mezze misure. Si ama con tutta la mente, il corpo e l'anima. Non si ama con un pezzetto solo. Non si può amare solo con le emozioni, solo con la testa. Solo con la spiritualità. L'amore vero riesce a compiere il miracolo di farci stare diritti nella notte. Ci fa capire che ogni gesto che facciamo può aprire o può chiudere una porta. Ogni gesto che facciamo può spostare una stella. Allora, lasciamo un po' di musica, di silenzio. Per desiderare, nonostante le ali legate, la voglia di svegliarci, di alzarci, di guardare, di ascoltare e di immaginare un mondo nuovo. Grazie. 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 La preghiera la prendo da un caro amico, il Cardinal Tolentino Mendoca, che spesso è venuto qui. e ha scritto queste parole liberaci Signore da questo virus e da tutti gli altri virus liberaci dal virus del panico dissennato che invece di infondere saggezza ci scaraventa impotenti nel labirinto dell'angoscia liberaci dal virus dello scoraggiamento che ci ruba la forza dell'anima grazie alla quale si possono affrontare meglio le ore difficili liberaci dal virus del pessimismo che non ci lascia vedere che se non possiamo aprire la porta possiamo aprire la finestra liberaci dal virus dell'isolamento interiore che disgrega il mondo continua a essere una comunità viva liberaci dal virus dell'individualismo che ferge le muraglie fa saltare in aria tutti i ponti intorno a noi liberaci dal virus della comunicazione vuota che si sovrappone alla verità delle parole che ci raggiungono dal silenzio liberaci dal virus dell'impotenza poiché una delle cose più urgenti da apprendere è il potere della nostra vulnerabilità liberaci dal virus delle notti senza fine poiché tu non smetti di ricordarci che tu stesso ci hai posto a sentinelle della notte amén dal libro dell'esodo così dice il signore non molesterai il forestiero né lo opprimerai perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto non maltratterai la vedova o l'orfano se tu lo maltratti quando invocherà da me l'aiuto io darò ascolto al suo grido la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada le vostre mogli saranno vedove e vostri figli orfani se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo all'indegente che sta con te non ti comporterai con lui da usuraio voi non dovete imporgli alcun interesse se prendi impegno il mantello del tuo prossimo glielo renderai prima del tramonto del sole perché è la sua sola coperta è il mantello per la sua pelle come potrebbe coprirsi dormendo altrimenti quando griderà verso di me io ascolterò perché io sono pietoso parola di Dio grazie a tutti ogni uomo semplice porta in cuore un sogno con amore ed umiltà potrà costruirlo se con fede tu saprai vivere umilmente più felice tu sarai anche senza niente se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra alto arriverai e le gioie semplici sono le più belle sono le più grandi sono le più grandi dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo i farisei avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei si riunirono si riunirono insieme e uno di loro un dottore della legge lo interrogò per metterlo alla prova maestro nella legge qual è il grande comandamento gli rispose amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima e con tutta la tua mente questo è il grande primo comandamento il secondo poi è simile a quello amerai il tuo prossimo come te stesso da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti parola del Signore in tutte le realtà umane prima si parla sempre di disciplina cioè le regole poi magari si parla d'amore poi alla fine se c'è tempo si parla di giustizia Gesù ribalta sempre tutto anche la Bibbia ribalta sempre tutto perché nella Bibbia prima c'è la giustizia e poi si può parlare d'amore è inutile che tu venghi a parlarmi d'amore se i gesti che fai sono ingiusti non mi venia a parlare d'amore prima mettiamo il minimo di giustizia cos'è la giustizia? la giustizia vuol dire mi sta a cuore vi ricordate Don Milani che diceva I care mi sta a cuore questa è la giustizia l'ingiustizia è l'opposto me ne frego tutti i totalitarismi da sempre hanno usato questa parola me ne frego non me ne frega nulla di nulla vuol dire che non gliene frega nulla davvero e invece mi sta a cuore questa è giustizia mi deve stare a cuore che questo mondo va a rotoli mi deve stare a cuore che si è distrutto tutta la natura mi deve stare a cuore che questi anziani muoiano così mi deve stare a cuore quest'umanità e allora quello che ci viene chiesto è un amore intero non un briciolo d'amore un amore pieno vero lo dice Gesù un amore da innamorati cosa hanno di bello gli innamorati che quando sei innamorato sembri un imbecille perché non non si capisce perché fai così perché sembri un rimbambito sembra che non tu sia presente ma semplicemente perché chi è innamorato tutta la testa tutto il corpo tutta l'anima è su quel ragazzo è su quella ragazza è su ciò che ami e allora è un amore intero non a pezzetti amo con il corpo o con le emozioni amo con tutto di me e soprattutto un amore pratico fatto di gesti fatto di sincerità perché vedete non si ama in astratto si è amato per anni in astratto si ama un corpo si ama un volto si amano degli occhi l'amore è concretissimo e allora bisognerebbe avere un amore molto concreto bisognerebbe avere un amore da innamorati vedete le regole sono degli imbecilli le regole le mettano i piccoli uomini quando voi a un figlio in casa gli mettete una regola avete già perso perché vuol dire che non c'è più amore perché se ci fosse amore che gira è normale che io ti rispetto è normale che ti ascolto e allora il problema è che le regole si evitano sempre quando è debole l'amore cos'è invece la disciplina perché è importante la giustizia dicevo è importante l'amore ma è importante anche la disciplina ma che roba è la disciplina vedete la legge la legge di Mosè aveva dei robusti steccati la legge di Mosè aveva addirittura 613 precetti di maggioranza in maggioranza negativi no 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 aveva la legge di Mosè 365 proibizioni una per una ai giorno e aveva 248 imposizioni quindi una legge proprio in cui qualunque cosa fai ti dicevano e che devi fare questo sì e questo no però vedete l'essenziale è al di là dei salmi l'essenziale è al di là del vestito da prete capire se c'è un uomo dietro c'è l'apparenza del ruolo di prete io ho sempre pensato che i ruoli sono demoniaci perché alla fine mi separano da voi e anche il ruolo di babbo e mamma non so un granché questo ruolo di babbo tutta la vita di mamma tutta la vita ma chi te lo chiede c'è un momento in cui bisogna cambiare ruoli essere figli dei figli facciamo fare la madre a tua figlia ascoltala e a volte non succede così vedete le regole si dice che ci vogliano ma ci vogliano vi dicevo quando l'amore ce n'è poco si mette tutte le regole anche a Romina un po' di regoline ma quello che ho visto che le regole possano limitare il male ma non ho mai visto che le regole rendano le persone migliori a volte le rendano peggio di prima quindi non dico che non ci vuole regole ma attenti lavoriamo più sull'amore che sulle regole facciamo crescere quello noi portiamo dei giochi a volte molto pesanti e quando porti un grande peso te diventi più rigido diventi più duro il mio babbo era molto duro molto rigido ma perché doveva portare avanti quattro fratelli perché gli erano morti il suo babbo è normale che era incavolato nero è normale che era diventato duro rigido e quando Gesù dice il mio gioco è leggero si può avere dei giochi che ti stroncano e dei giochi leggeri a me mi garba l'idea del gioco che dice Gesù perché il gioco è che serve primo serve andare a coppia avete visto i bobi vanno a coppia secondo il gioco ti indica la direzione mi garba questa idea perché vedete quando noi siamo così agitati noi ci muoviamo ci turbiamo puntiamo i piedi ma alla fine quando siamo in crisi ragazzi che si fa a tutti primo ci si isola avete visto ti chiudi ti chiudi ti chiudi e non sai più dove andare e invece Gesù sembra dirvi dai prendete questo gioco leggero non state isolati incontrate le persone camminate con gli altri e ricercate una direzione una linea dove andare vedete Gesù non ha mai dato grandi precetti vi ricordate anche per la preghiera c'è tutte le religioni del mondo fanno una noia infinita date tutte le regole devi pregare il corpo deve stare a diritto quell'altro devi ascoltare il respiro una noia infinita tutte le regoline per meditare tutte le regoline per pregare Gesù alla fine dice poche cose quando preghi di Padre nostro cioè un Padre prega Lui quando preghi chiuditi in camera e sta zitto in silenzio non fatti vedere quando digiuni come dice il Vangelo oggi quando digiuni profumati il capo profumati il capo profumati il capo e mangiate quello che vi viene messo davanti sentite come è naturale Gesù non fa tanti fichi li fatti vedere può pregare mettiti sotto un albero sta in camera zitto zitto quando digiuni non lo fa vedere sto facendo un digiuno profumati il capo fatti vedere il sorridente la disciplina è una cosa tua mangiave quello che vi viene messo davanti questa mi garba da morire perché mi viene in mente San Francesco che non riusciva vi ricordate San Francesco a scrivere una regola tentò la prima regola e in Vaticano non gli garbò e neppure la seconda che ha scritto gli piacque allora cosa succede che il Cardinal Ugolino gli mette accanto a Francesco dei giuristi che gli scrissero in questa nuova regola la terza sentite che bischerata scrissero che i frati non dovevano mangiare la carne il mercoledì figurati se San Francesco intelligente come era metteva una regola a bischero così e cosa succede cosa succede a Francesco un giorno Francesco è con frate Leone a una scena e c'era la carne allora Francesco dice a frate Leone bisogna obbedire a Dio o bisogna obbedire agli uomini chiaramente Leone dice addio e allora mangiate quello che vi mettano davanti e mangiò la carne senza problemi mi piace questa leggerezza mi piace riuscire nella vita ad avere tutte queste cose la giustizia l'amore la disciplina però senza imporle in un modo naturale un amore da innamorati riuscire ad avere una giustizia che vuol dire mi sta a cuore questa umanità non voglio fregarmene è una disciplina che non mi viene imposta dagli altri ma fu da me concludo quando io dico l'unica salvezza in questo mondo di imbecilli è diventare tutti monaci nelle città perché si sta campando con dei ritmi da idioti da anni e anni cosa vuol dire monaci nella città monaco vuol dire monacos che non vuol dire separato vuol dire unificato per campare un po' meglio basterebbe che ognuno di noi si facesse una sua disciplina senza dirla a nessuno e ogni giorno come i monaci ti regali mezz'ora la mente prendi un librettino leggi 20 pagine sottolinei un rigobello e te lo mastichi tutti i giorno mezz'ora cammini da solo e mezz'ora stai in silenzio vedete ridai tempo alla mente al corpo all'anima perché siamo così divisi oggi che il corpo è qui e la testa da un'altra parte e allora questo Vangelo di oggi ci dice che si può campare con quello che c'è ma in un modo molto più leggero e molto più profondo dentro la tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei salirei salirei il sole del mezzogiorno e passerà alto sopra di noi fino alla tasca fino alla tasca del pomeriggio dall'altra tasca ti porto se vuoi dentro la tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo col fazzoletto ti coprirei dentro la tasca di un qualunque mattino dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti saluterei e con la mano ma che non veda nessuno con questa mano ti saluterei e con la mano accetta oh padre questo pane in questa serata di luce prendici più umani e trasformaci nell'icona di Cristo tuo figlio e nostro fratello amén il Signore è con voi in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio ti vogliamo ringraziare Padre misericordioso tu ci hai donato il tuo figlio il Gesù nostro fratello e amico in lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri per gli amalati e gli esclusi mai egli si chiuse alle necessità e le sofferenze degli altri questi segni della tua bontà noi ti rodiamo e ti benediciamo e invochiamo Santo 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 è Signore il Dio dell'Universo i cieli e la terra sono pieni della tua propria l'alto dice e l'eletto colui che viene nel nome del Signore l'osana l'alto dei cieli ti rodifichiamo Padre Santo tu ci sostieni sempre nel nostro cammino soprattutto in quest'ora in cui Cristo tuo figlio ci raduna per la Santa Cina ti preghiamo Padre che tu ti abbracci manda il tuo spirito su questo pane e su questo vino perché il tuo figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue la vigilia della sua partenza mentre cenava con loro prese il pane e rese grazie lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo donato per voi allo stesso modo prese i carici del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione lo diede dei suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti per sanare i vostri peccati fate questo in memoria di me mistero mistero della fede celebrando il ricordo della nostra riconciliazione annunziamo padre l'opera del tuo amore guarda padre santo questa offerta è Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue dio padre di misericordia donaci lo spirito dell'amore lo spirito del tuo figlio nostro fratello fortifica la nostra umanità con il pane della vita il calice della consolazione rendici più solidi nella fede e nell'amore in comunione con ogni fratello e sorella che ti cerca e che non ti cerca donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze degli altri la nostra fraternità sia testimonianza viva di verità e di libertà di giustizia e di pace perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo ricordati di Caterina Gino Giuliano Chiara Lea Gianna ma ognuno si provi a ricordare una persona della sua vita che avendo l'ha incontrata lo ha reso migliore io ci ho due o tre persone che incontrandola nella vita mi hanno reso migliore di come potevo diventare lasciamo un po' di silenzio per ringraziare di questi incontri importanti di vita accoglili tutti o Signore loro che ci hanno preceduto che ora vedono la luce dei tuoi occhi concedi anche a noi al termine di questo cammino sulla terra di riabbracciarli in comunione con tutto l'universo per Cristo tuo Figlio è nostro Signore per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre che tu tu abbracci nell'unità dello Spirito Santo ogni benedizione per tutti i secoli dei secoli e insieme diciamo Padre nostro che sei che sei santificato con tuo nome venga a tuo regno sia fatta la tua volta come il cielo e così in te lascio oggi il nostro pane quotidiano e rilettiamo i nostri venti come noi rilettiamo i nostri fiori e non amato la nostra tentazione ma liberaci da noi liberaci o Signore da tutti i mali conci di la pace i nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dalla mediocrità e pacifici in ogni turbamento nell'attesa che la speranza sia piena per poter un giorno abbracciare il nostro fratello Gesù che ci ha detto vi lascio la pace vi do la mia pace non come vera dal mondo io la do a voi donaci unità e pace secondo la tua volontà tu che vivi e regni nei secoli dei secoli la pace del Signore è sempre con voi e doniamoci uno sguardo di pace agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi e pietà di noi agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi agnello di Dio che togli i peccati del mondo doniamo la pace e Gianni, Tiziana e Maurizio Beati noi, invitati alla cena del Signore ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo oh Signore, oh Signore, oh Signore che ci parla di noi ma di soltanto la nuova che è stato salvato adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare sono solo quattro accordi ed un pugno di parole più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera non cercare un senso di tutto perché tutto ha senso anche in un chicco di grano si nasconde l'universo perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose è il fiore tra l'asfalto lo spettacolo del firmamento è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento è la legna che brucia, che scalda e torna cenere la vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare dimmi dove vorresti andare abbracciami se avrò paura di cadere che siamo in equilibrio sulla parola insieme abbi cura di me abbi cura di me il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro basta mettersi al fianco invece di stare al centro l'amore è l'unica strada, è l'unico motore è la scintilla divina che custodisci nel cuore tu non cercare la felicità, semmai proteggila è solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima è una manciata di semi che lasci alle spalle come crisali di che diventeranno farfalle ognuno combatte la propria battaglia tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso perché l'impresa più grande è perdonare se stesso attraversa il tuo dolore e arrivaci fino in fondo anche se sarà pesante come sollevare il mondo e ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte e ti basta solo un passo per andare oltre ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare dimmi dove vorresti andare abbracciami se avrai paura di cadere che nonostante tutto noi siamo ancora insieme abbracciami se avrai paura di me qualunque strada scelterai amore abbracciami se avrai paura di me abbracciami se avrai paura di me abbracciami se avrai paura di me che tutto è così fragile adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino perché mi trema la voce come se fossi un bambino ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare tu stringimi forte e non lasciarmi andare abbi cura di me preghiamo corteggio l'amore quell'attimo frusciante che non sai mai se nasce da dentro la terra o dal profondo dei cieli quando la vita si fa capace di misurare il ritmo del respiro e di frugare il cuore troppo stretto a volte è il mio petto per questo dono del cielo chiedo aiuto al tempo che maturi dentro di noi questo amore granello dopo granello indolcezza e umiltà papà francesco ha fatto una enciclica meravigliosa si chiama fratelli tutti preso da delle parole di san francesco fratelli tutti fratelli e fratelli uomini donne non c'è da litigare ma soprattutto sono due parole come ci dice Wolfgang che stanno diritte in piedi da sole c'è delle parole che non c'è da discutere fratelli e fratelli punto tutti e tutti e allora forse dovremo diventare tutti creature di comunione con tutto con tutti lo diceva Van Gogh il primo passo della saggezza è dubitare di tutto l'ultimo passo è riabbracciare tutto quando siamo giovani si fa i ganzi ci si ribella ogni cosa si divide i buoni dai cattivi ma prima di morire ragazzi se vuoi morire in pace dovresti riabbracciare tutto il cielo, la terra la città dove sei nato tuo padre, tua madre altrimenti si campa male e si muore male e allora per me è importante liberarci da tutte le separazioni e quando viviamo in Dio la nostra mente non è capace di concepire piccoli pensieri ma solo dei pensieri universali amare e agire nel non agire questa è una delle cose che mi piace di più nell'amore agire senza agire che vuol dire con naturalezza senza forzature agire secondo la natura delle cose agire senza agire per me è la suprema saggezza auguriamoci in questo tempo di agire senza agire con naturalezza senza forzature e allora possa la via crescere con voi il vento essere alle vostre spalle il sole scaldare il vostro viso possa Dio tenervi nel palmo della sua mano prendetevi tempo per amare perché questo è il privilegio che Dio vi dà prendetevi tempo per essere amabili perché questo è il cammino della gioia prendetevi tempo per ridere perché il sorriso è la musica dell'anima prendetevi tempo per amare Dio la vita le persone che avete accanto a voi ogni giorno e fatelo con molta molta tenerezza perché la vita è troppo corta per essere egoisti Dio ci benedica Padre Figlio e Spirito Santo come avete capito cambiando l'ora e dalla prossima domenica è alle 4 e mezzo la messa e non più le scende buon viaggio grazie 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 il senso delle lacrime, io dal dolore ho imparato a non fingere, dai miei figli ho imparato a crescere dall'amore, come sopravvivere davanti a me, ho visto un cielo coperto di nuvole, e dopo il sole splendere, poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo, il tuo solito è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te, che sei la cosa più grande del mondo, per me che forse non merito tanto, non merito tanto.